E' un altro amico fenomenale, Jimmy il fenomeno, un personaggio che è come il prezzemolo, è sempre presente in tutte le grandi occasioni, Jimmy, Jimmy vieni, corri, veloce, corri, vieni, Jimmy, una mano, veloce, Senti, Jimmy, ma chi è il più bravo tra me e Sammy? Sono anni che non vado più al cinema, non mi interessa più, così.